Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa esulta per la festa di Santa Maria Goretti, una bambina, una ragazzina che a dici anni era rimasta orfano di padre morto a causa della malaria perché la zona dove abitava era andata ad abitare perché si era mossa da Corinaldo in provincia di Angona ed era andata verso l'agropontino e qui il padre era stato affetto da malaria e morì. E lei mentre la mamma lavorava i campi accudeva alla casa, anche i fratelli più piccoli e un giorno un ragazzo che si era invachito di lei le chiese di poter avere relazioni sessuali con lei che invece riteneva che fosse peccato, lui cercò di fare la violenza ma le resistette e lui la colpì con 16 colpi di punta e ruolo. Ricoerato in ospedale, fu operato alla meno peggio senza anestesia tra l'altro e volle prima di morire perdonare il suo assassino dicendolo voglio con me in paradiso e quando quel ragazzo la colpiva le diceva non farlo perché vai all'inferno lei non era preoccupata di se stessa, della sua saluta. Cose straordinarie fratelli, nei ragazzi di quell'età pensare non a se stessi ma alla salvezza degli altri e la Chiesa ha visto in lei un grande segno della potenza di Dio che opera nei deboli. Ero un bambino di sei anni quando le suore ci fecero ascoltare alla radio la canonizzazione di questa bambina e ricordo benissimo che si diceva che ce la presenta la madre e ce la presenta anche il suo assassino Alessandro a cui le apparve una notte mentre era in carcere e gli manifestò la volontà di Dio e uscito dal carcere e quell'uomo si convertì e volle diventare frate e si consacrò a Dio e lei ottenne quello che aveva voluto la salvezza del suo assassino, una verità lunga per sé. Oggi nella prima lettura della Messa noi leggiamo un passo molto interessante che riguarda il patriarca Giacobbe figlio di Isacco, nipote quindi di Abramo lui aveva carpito la prima genitura al fratello Esau ed era poi andato a vivere presso uno zio dove si era arrecchito tantissimo e si era innamorato poi di una cugina Rachele e lo zio l'aveva fatto sposare ma alla sera delle nozze lui si accorse che la sposa che era velata non era Rachele ma era Lia, la sorella maggiore e allora andò dallo zio dicendogli ma cosa hai fatto? E lo zio gli rispose non si sposa la seconda, se prima non si sposa la prima se vuoi anche Rachele, lavora altri sette anni per me e così Giacobbe fu costretto a lavorare altri sette anni per avere in moglie la donna che lui amava e poi lo stratagemmi si arrecchì alla casa dello zio ma arrivò il momento di lasciare tutto per tornare da dove era venuto e sapeva che suo fratello era arrabbiato contro di lui e allora Giacobbe mandò avanti a sé molta parte dei beni che aveva e dei servi e dicendo loro se incontrate mio fratello Isaù e vi chiederà di chi è questa roba direte è il regalo che ti fa mio fratello perché essendo un regalo lui non doveva fare violenza per appropriarsene perché il rischio era che lui sterminasse tutti e durante la notte Giacobbe fece passare dall'altra parte di un torrente tutta la sua famiglia, le due mogli, i figli, i dodici figli che aveva avuto e via dicendo e rimase solo e cosa fece quando rimase solo? evidentemente pregò perché gli si fece avanti un personaggio che il dottò con lui ma non riuscì a vincerlo e sul faro del mattino questo personaggio che non riusciva a vincerlo ne accolpì al nervo sciatico e Giacobbe chiese di benedirlo molti commentatori leggendo questo brano del libro della Genesi si sono chiesti ma chi era quel personaggio che l'attava con Giacobbe e non riusciva a vincerlo e non si parla qui di uno spirito cattivo ma di uno spirito buono Giacobbe con la sua preghiera vince anche Dio perché la preghiera che viene dal cuore la preghiera che viene dal profondo della vita muove la potenza di Dio in nostro favore e quindi Giacobbe viene benedetto e gli viene lamentato che lui sarà capostipite di una grande generazione e di un popolo che sarà molto numeroso la preghiera perché vince Dio? perché quando le cose sono impossibili la preghiera ottiene anche l'impossibile da Dio ottiene miracoli ottiene la conversione come Santa Maria Goretti ottene la conversione del suo assassino le cose impossibili si piegano c'è onnipotenza nella preghiera l'onnipotenza che viene da Dio stesso ecco allora il personaggio che lotta contro Giacobbe e Giacobbe non viene vinto Giacobbe resiste e alla fine quel personaggio dice lasciami andare è tempo che io vada cioè riportate vittoria verso di me non è una lotta cattiva è una lotta d'amore è una lotta di fede è una lotta di potenza e di questa potenza il Signore vuole dotare la sua Chiesa perché le potenze del male che sono in questo mondo devono essere vinti ma da una lotta non basta spiaccicare qualche buona intenzione di preghiera bisogna che tutta la vita sia coinvolta e donata a Dio sottomessa a lui ecco allora la vittoria che Giacobbe riporta e ottiene quello che Dio gli ha promesso l'impossibile e l'impossibile gli viene accordato il fratello di Giacobbe che era andato verso di lui con arroganza con quattrocento uomini al seguito evidentemente aveva voglia di combattere di appropriarsi di rubare il fratello e savi che certo non era di buon animo e sause amman sì e ottiene che Giacobbe poteva tornare immune al suo paese e la Chiesa oggi lo rimette in bocca a noi queste parole ascolta Signore la mia giusta causa si attendo al mio grido porgi l'orecchio alla mia preghiera sulle mie labbra non c'è inganno dal tuo volto venga per me il giudizio i tuoi occhi vedano la giustizia saggia il mio cuore scrutalo nella notte provami al fuoco non troverai malissia guardate il salmista si arrenda a Dio sono tuo ma questo non è soltanto un gesto è una vita sotto totale sotto Signore a Dio per cui me non troverai malissia perché tu mi hai purificato io ti appartengo io ti invogo perché tu mi rispondi oh Dio tendi a me l'orecchio e ascolta le mie parole mostrami i prodigi della tua misericordia tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra custodiscimi come pupilla degli occhi all'ombra delle tue ali nascondimi io nella giustizia contemplerò il tuo volto al risveglio mi sacierò della tua immagine la vecchia traduzione diceva della tua presenza saciabur comaparuerit gloria tua ecco allora fratelli la potenza di Dio si comunica all'uomo che deve vincere le sue battaglie lottando con Dio più che uccidendo gli uomini e nel Vangelo leggiamo un brano che riguarda una guarigione presentarono a Gesù un mutuo indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato quel mutuo cominciò a parlare e le folle prese da stupore dicevano non si è mai visto una cosa simile in Israele ma guardate un po' la reazione dei capi del popolo e i capi religiosi costui scacci i demoni con la potenza del principe dei demoni cioè un indemoniato pure lui un servitore di Satana guardate un po' come l'opera di Dio viene scampiata come un'opera satanica vedete la poca disponibilità di cuore porta questi uomini a stravolgere la verità di Dio e Gesù allora percorreva tutte le città e villaggi insegnando nella loro sinagoghe annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità con Gesù la potenza di Dio si è manifestato su questa terra fratelli e Gesù vedendo le folle aggiunge il Vangelo a compassione di quelle folle perché diceva ai Suoi Discipoli la Messa è molta ma gli operai sono pochi la Messa è abbondante ma sono pochi gli operai pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella Sua Messe pregate per questo come oggi particolarmente fratelli c'è bisogno nella Chiesa ma bisogna vincere questa battaglia con la preghiera con l'adesione a Dio con la sottomissione a Lui ricorrense se necessario anche alla penitenza al degiuno e il Signore si rende sempre favorevole verso il popolo che lo invoca con sincerità di cuore e nel Vangelo troviamo un altro passo quando i farisei dicono costruire cacci i demoni con lo spirito del demonio con la potere del principe e dei demoni Gesù dice se un regno diviso in se stesso è prossimo alla fine ma se io cacci i demoni con lo spirito di Dio vuol dire che è in mezzo a voi il regno di Dio e un altro passo se io scacci i demoni con il dito di Dio lo spirito santo viene chiamato dito di Dio per questo nel bellissimo in allo spirito santo si parla dello spirito santo dicitus paterna d'extra dito della mano destra di Dio è Dio stesso questo spirito fratelli oggi il Signore dona a tutti noi questo spirito che è il dito di Dio dito della mano di Dio che è la potenza di Dio opera in ciascuno di voi nella Chiesa questo ti chiediamo Gesù oggi manifesta nella Chiesa la potenza del tuo spirito cacciavi ogni spirito di ribellione di odio di corruzione di vanità di falsità tu con la potenza di Dio Gesù rinnovi l'umanità intera dona la tua Chiesa di lottare come ha lottato Giacombe per ottenere la salvezza dell'umanità intera a te Gesù sangra lode la gloria per tutti i secoli dei secoli Amen e tu Vergine Santissima che sei stata sempre vittoriosa sulle potenze di Satana in te il dito alla mano di Dio ha operato prodigi oggi accompagno della tua Chiesa in questa gloriosa battaglia contro ogni potenza di male perché Gesù sia il Signore di tutti a Lui salga la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli Amen Ecco allora fratelli oggi il Signore mette nel tuo cuore mette nel cuore ciascuno di noi questa potenza della suo Santo Spirito e Lui opera in noi agisce attraverso di noi e noi perseveriamo fino a che lo Spirito ci dà una vittoria Amen Grazie a tutti Grazie a tutti